ciao a tutti eccoci qua benvenuti a tutti in questa live precena vediamo che quale so chi si collegherà vediamo chi si collegherà il tema ovviamente messo in modo nascosto ma è quello della seduzione della seduzione del coinvolgimento come produrre coinvolgimento perché spesso si crede che si riesce a produrre coinvolgimento diciamo coinvolge convincendo le persone talvolta addirittura diciamo generando manipolazione no la manipolazione come dire il tentare di coinvolgere di convincere una persona attraverso dei ricatti emozionali ma sono tutti metodi che in realtà non producono assolutamente seduzione e tendono a produrre diciamo eventualmente amicizia perché la persuasione si basa fondamentalmente sul convincere la sfera logico e razionale che non è che sia sbagliato ma non è sufficiente per produrre innamoramento mi sa che la che non è arrivata la notifica di youtube perché vedo pochissime persone collegate marco e maglia due persone bene una live proprio super ristretta benissimo l'unico modo per produrre seduzione invece produrre coinvolgimento è quello di attrarre capire quali sono le caratteristiche capire quali sono le leve che intera che possono agire diciamo così sulla parte emozionale di una persona e andare a somministrare proprio quel tipo di leva noi dobbiamo tenere presente che se agiamo diciamo sulla sfera logico e razionale non abbiamo nessuna possibilità di riuscire a coinvolgere qualcuno dobbiamo imparare agire sulla sfera emotiva sulla sfera emozionale è un po' quello che avviene diciamo nei confronti di un gatto no se tu vuoi convincere un gatto a saltare non ci riusciremo oh luisa bene vedo luisa floretta oggi proprio di notifica non credo che ne sia arrivata per niente perché non c'è nessuno collegato o sono tutti scappati o non c'è nessuno nessun collegamento quindi comunque se noi vogliamo coinvolgere un gatto ad esempio non possiamo per fargli fare dei salti non possiamo convincere il gatto diciamo così in qualche modo addestrarlo perché il gatto non è un animale che si fa addestrare al contrario forse dell'essere umano che è un po più addomesticabile un po più addomesticabile del gatto e sì non sono arrivate le notifiche non so perché youtube non manda le notifiche allora le persone appena vari un po l'orario non sanno più però pazienza e questo è un problema di youtube con contro youtube non ci si può fare niente e quindi dobbiamo tenere presente questi fatti no se noi vogliamo se noi vogliamo imparare a coinvolgere diciamo così un gatto è molto più semplice trovare quelli sono le leve quelli sono i trigger si chiamano quelli sono i trigger che coinvolgono il gatto il trigger che coinvolge il gatto è praticamente un uno spago con una pallina o con una piuma e se tu utilizzi questo sistema diciamo fai fare al gatto tutte le acrobazie di questo mondo e praticamente è praticamente tutte queste acrobazie che fa il gatto praticamente praticamente le fa perché si è andato a sollecitare proprio la sua parte emotiva fondamentalmente quindi questa è la cosa è la cosa fondamentale se noi vogliamo ottenere seduzione così è come la farfalla del titolo se noi vogliamo convincere una farfalla a venire da noi dobbiamo semplicemente preparare un giardino un giardino e farlo fiorire ecco questa è l'esca quindi teniamo presente che il processo di seduzione tenendo come processo di seduzione la sequenza di eventi che portano ad una seduzione sono diversi e devono però sempre basarsi su delle diciamo su dei passi fondamentali questo vale sia per la seduzione dell'uomo verso la donna sia per la seduzione della donna verso l'uomo con qualche variante nel senso che la donna diciamo lavora in modo ancora più indiretto rispetto all'uomo normalmente questo puramente per fattori culturali e puramente in funzione dell'obiettivo che vuole raggiungere poi l'ha il titolo l'ha scritto l'ina vert nulla questo o don matteo un altro questo è dipende sempre da da quello che si vuole si vuole ottenere perché una donna che volesse ottenere diciamo soltanto una gratificazione di natura fisica senza voler costruire qualche cosa avrebbe diciamo da questo punto di vista ancora la strada più aperta la strada più facilitata il problema è che spesso le donne non non vogliono ottenere soltanto un rapporto di natura fisico ma vogliono ottenere qualcosa qualcosa di più e anche questo però è importante e anche questo è importante è esatto don matteo anche la farfalla viene questo è importante rendersi conto di questo perché il ricalco è fondamentale cioè facciamo un esempio una donna che volesse sedurre un uomo che come pensiero dominante ha un pensiero legato al fatto che crede che le donne vogliano incastrarlo perché ci sono anche questi pensieri dominanti no molti uomini ad esempio hanno un pensiero dominante che pensano che le donne vogliono incastrarli che le donne vogliono farsi diciamo così avere una relazione stabile e questo e questa è diciamo e e allora succede che se un uomo ha questo pensiero dominante che se un uomo ha questo pensiero dominante qual è il meccanismo di difesa è che non vorrà relazionarsi stabilmente con nessuna donna quindi tenderà ad allontanarsi non appena percepisce che una donna vuole qualcosa di più perché sentirà sentirà di essere per così dire di essere incastrato e in effetti molte donne tendono a incastrare a incastrare cosa vuol dire incastrare perché sembra una brutta parola non ti vuole incastrare e incastrare significa ti vuole portare come dire a fare dei passi che tu di tua iniziativa non faresti ecco allora dobbiamo tenere presente che se una donna ti vuole incastrare tu devi sviluppi tende a sviluppare nel tempo questo pensiero dominante tende a sviluppare nel tempo questo pensiero dominante che le donne praticamente vogliono avere tutta una relazione stabile per cui è meglio difendersi dalle donne che vogliono una relazione stabile allontanandosi per cui inizia a sviluppare un pensiero più libertino allora una donna che volesse come dire coinvolgerti dovrebbe andare a soddisfare il pensiero dominante e come fa a soddisfare il pensiero dominante in questo cioè non non attivare il pensiero dominante perché si attiva il pensiero dominante è fregata beh dovrebbe dire a quest'uomo guarda io voglio solo fare sesso senza sentimento non mettiamo sentimento di mezzo perché io proprio non ne voglio sapere del sentimento io esprimo al meglio la mia sessualità proprio quando non c'è nessun sentimento o abbiamo Stefano Gatto andate a vedere che ho postato Stefano Gatto ha fatto una mia canzone una mia canzone io non l'ho caricata sul mio canale per probabilmente questioni copyright comunque andate a vedere sulla mia bacheca che c'è la canzone di Stefano Gatto quando Stefano Gatto fa la musica propria senza copyright allora la metterò anche sul mio canale è bello è forte è forte è forte quella è forte andatela a vedere perché è forte andate sulla bacheca perché è forte ecco quindi come dovrebbe agire una donna in questo caso? dovrebbe dire a quest'uomo dovrebbe dire guarda io proprio di avere relazioni non ne voglio io voglio soltanto avere relazioni diciamo voglio soltanto avere relazioni voglio soltanto avere relazioni di natura così edonistica senza nessun coinvolgimento ecco allora se una donna comunica questo non va a scontrarsi col pensiero dominante dell'uomo che qual è il pensiero dominante dell'uomo tutte le donne vogliono incastrarmi se una le dice così lui dice inevitabilmente dirà l'ho trovata l'ho trovata questa è la donna che fa per me perché è una donna che non ricatta è una donna che non vuole incastrare è una donna che non che non rompe le palle ecco quindi è fondamentale questo vuol dire come dicevo prima questo è così poi devo fare un video lo farò stasera quello di Rossella che mi ha detto il titolo già il video di Rossella lo farò questa sera poi non mi credo più il titolo se me lo rimandi un attimo Rossella rimandami un attimino Rossella Rossella rimandami un attimino il messaggio va che ah no l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato stasera stasera lo facciamo stasera il video per Rossella allora quindi in questo caso in questo caso ho la malgasciona Alessandra Casara la malgasciona Alessandra Casara ecco quindi hai visto che bel titolo quindi una donna che mette in atto una comunicazione del genere non va a scontrarsi contro il pensiero dominante quindi questo vorrebbe dire far fiorire il giardino cioè paradossalmente per far fiorire il giardino devi evitare di andare a scontrarti contro il pensiero dominante perché se ti vai a scontrare contro il pensiero dominante praticamente non hai possibilità di uscire con le ossa intatte fondamentalmente ecco quindi che una volta capito qual è il pensiero dominante per il pensiero dominante si sganciano così non inneschi il meccanismo difesa non inneschi il meccanismo difesa tu se non vuoi con uno che è un libertino conclamato che crede che tutte le donne vogliono fregarlo perché vogliono sposarsi vogliono incastrarlo eccetera l'unico modo di ingresso è quello e non ce ne sono altri perché se tu inizi a mettere subito dei poi dopo potrai mettere i vincoli dopo ma inizialmente devi entrare in questo modo poi dipende sempre da quello che uno vuole ovviamente dipende sempre da quello che uno vuole è ovvio che se uno si diffida dalle donne se uno diffida dalle donne se uno diffida dalle donne e ha paura teme che le donne vogliono incastrarlo teme che le donne vogliano vogliano perché poi di fatto sono le donne che vogliono incastrare gli uomini viceversa non esiste non esiste il fatto che un uomo vuole incastrare una donna è sempre la donna diciamo che vuole incastrare l'uomo questa per una tradizione culturale perché se dipendesse diciamo se dipendesse dal tipo di relazione dalla natura l'uomo diciamo non come dire la relazione di coppia è più è più voluta dalla donna la casara a parte le margascione che vogliono essere incastrate però normalmente statisticamente funziona in questo modo però se ci fosse un uomo che invece vuole a tutti i costi diciamo avere una relazione con una donna dipende qual è il pensiero dominante potrebbe avere il pensiero dominante tanto le donne sono tutte uguali perché allora tu devi farti vedere quello che bisogna fare è andare a disincastrare il pensiero dominante perché se il suo pensiero dominante è lui vorrebbe una relazione stabile e pensa che le donne sono tutte delle satanate diciamo che vogliono solo sesso e basta e tu devi presentarti come una vergine devi presentarti devi riverginarti come dire devi presentarti come vergine devi presentarti come una che guai che no che lei soltanto nell'ambito di una relazione stabile riesce ad arrivare a una relazione sentimentale a far passare una relazione sentimentale affettiva anche su un piano erotico tangibile dipende dal pensiero dominante dal pensiero dominante che ha l'uomo fondamentalmente o dal pensiero dominante che ha la donna perché ecco la cosa che dobbiamo capire è che ognuno di noi dentro ha un po' no ecco Tania Grandi che dai suoi 96 cm di statura ci dice qualcosa beh è ovvio che è ovvio che come dire per fare per preparare un giardino dovresti trovarti anche una persona che apprezza il tipo di fiore che sei perché questo è anche importante il problema qual è che se tu vuoi una relazione stabile non andarti a prendere non andarti a prendere un non andarti a prendere un libertino perché se ti vai a prendere un libertino quando vuoi una relazione stabile cioè è ovvio che non hai possibilità di di venire fuori da questa situazione dipende sempre dall'obiettivo l'obiettivo di fondo qual è cioè dipende sempre dall'obiettivo di fondo qual è è ovvio che dipende anche dalla tua dalla tua situazione se la situazione è una situazione diciamo in cui hai delle in cui tu vuoi a tutti i costi avere una situazione diciamo così di relazione sentimentale affettiva stabile allora devi la canetti sarà con papella non so dov'è la canetti 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 ecco bra c'è la canetti iscrivete non ho visto la canetti sarà con papella sono al canile iscrivetevi al mio nuovo canale desiderate il mio nuovo canale al mio nuovo canale e al canile della canetti la canetti sarà con papella che l'avrà portato in giro a fare i bisognini l'avrà portato in giro a fare i bisognini e ora anche papella apprezza le crocchette oramai tutte e due vivono al canile vivono al canile beh comunque è interessante è interessante rendersi conto che ognuno di noi sulla base delle esperienze che ha avuto ha dei pensieri dominanti questi pensieri dominanti cosa sono? sono le fisse che uno si crea le fisse che sono diciamo che producono un meccanismo di difesa le fisse producono un meccanismo di difesa e non è che siano vere cioè non è che il pensiero dominante sia un pensiero vero è un pensiero soggettivo è un pensiero soggettivo che serve a difenderci video sui tarocchi li farò è un pensiero che serve a difenderci da situazioni di sofferenza purtroppo diventa spesso un meccanismo di difesa per fare un esempio è come se uno mette le dita nella presa da piccolo mette le dita nella presa di corrente prende la scossa poi non è che deve fare cinque anni diciamo di ingegneria per capire che se mette le dita nella presa piglia la scossa lo impara da solo il problema è qual è che inizierà a sviluppare un meccanismo di difesa talmente forte che non entrerà neanche più in una casa dove ci sono delle prese di corrente perché come dire ha talmente paura di beccarsi di nuovo la scossa che starà ben alla larga e questo è l'essenza del meccanismo di difesa l'essenza del meccanismo di difesa sono delle fisse che non hanno nessuna nessuna attinenza con la realtà l'ho portata esatto le dita nella presa Papa Alessandro Papa come dire quindi non è che deve fare cinque anni non c'è Papella e allora c'è Papa Papella e Canetti Canetti e Papella do un po' di materiale per fare le cose Canetti e Papella Papella e Canetti e allora noi dobbiamo capire qual è il meccanismo di difesa che utilizzano le persone che utilizzano le persone perché se riusciamo a capire qual è il meccanismo di difesa che utilizzano le persone riusciamo a disinnescarlo riusciamo a disinnescarlo presentandoci come l'opposto di quel meccanismo di difesa lì di quel pensiero dominante se uno pensa che tutte le donne sono fatte in un certo modo mi presento nel modo opposto perché quelle donne fatte così io tendo a difendermi lo stesso vale per gli uomini quindi capire e come facciamo a capire qual è il pensiero dominante beh le persone ce lo dicono il pensiero dominante si chiama dominante proprio perché in qualche modo si manifesta viene fuori cioè se una vuole una relazione vuole crearsi una relazione familiare familiare ci sono donne che soprattutto arrivate a una certa età diciamo ad esempio c'è un esempio sentono una spinta biologica tra i 35 e i 40 le donne sentono una forte spinta biologica ad esempio all'accoppiamento stabile proprio per accoppiarsi diciamo così indipendentemente dal fatto che poi vogliano figli o meno però lì sentono una spinta molto forte 35 e 40 poi superati i 40 diciamo che piano piano tende ad affievolirsi perché poi se ne fanno una ragione diciamo così arrivati a 50 se ne sono fatto una ragione se non hanno figli basta non ci pensano più e però se ne hanno diciamo se non ne hanno invece in quella fase d'età lì cercano di come dire in quella fase d'età lì cercano di trovarsi una relazione una relazione di un certo tipo e quindi mettono in atto dei pensieri se non ci sono riuscite è perché come dire tutti gli uomini sono traditori fondamentalmente e vengono poi delle fisse uno pensa tutti gli uomini sono traditori come quella storiella che girava lì su facebook non so l'ho trovata da qualche parte l'ho postata era carina una donna che sta dicendo parlo con uno gli uomini sono tutti traditori mi tradisce Paolo mi tradisce Marco mi tradisce Antonio e sono sicuro che se faccio degli accertamenti mi tradisce anche il mio scopo che mi tradisce anche il mio marito e quindi diciamo funziona funziona in questo modo no perché qual è il problema che se una ha la fissa del tradimento ha la fissa che gli uomini tradiscono sarà la prima a tradire questo dobbiamo tenerlo presente le nostre paure si manifestano in questo modo se noi temiamo che una persona ci possa tradire se noi temiamo che una persona ci possa tradire la nostra fissa sarà che diciamo sarà di tradire per primi quindi è per questo che è un po' il meccanismo della gelosia le persone gelose sono quelle che potenzialmente tendono a tradire potenzialmente tendono a tradire le persone che non sono gelose invece tradiscono di meno non è che non tradiscono ma tendenzialmente tradiscono di meno quindi se vogliamo coinvolgere una persona coinvolgerla diciamo dobbiamo evitare di scontrarci contro i meccanismi di difesa di questa persona perché se ci scontriamo contro i meccanismi di difesa di quella persona lì non avremo non avremo possibilità di interagire quindi mai scontrarsi col meccanismo di difesa che significa preparare il giardino per attirare la farfalla noi possiamo attirare la farfalla soltanto se prepariamo un giardino che che sia diciamo appetibile per la farfalla stessa che sia appetibile per la farfalla stessa cosa vuol dire A che non deve scontrarsi contro il meccanismo di difesa della farfalla B che deve dare emozioni che deve dare cioè questa farfalla deve emozionarsi ci sono quindi questi due questi due parametri che dobbiamo utilizzare questi due parametri che dobbiamo utilizzare che sono evitare lo scontro col meccanismo di difesa che poi il meccanismo di difesa è sempre un meccanismo della sfera logica non è mai un meccanismo della sfera emotiva il meccanismo di difesa è sempre logico e razionale perché è la parte logica che ha preso tante batoste ha preso tante come dire fregature che non vuole più prendere fregature mentre per la parte emotiva le fregature vanno benissimo cioè per la sfera emotiva non c'è problema a viversi delle fregature anzi la parte emotiva può anche andare deliberatamente e ricercarsi delle fregature perché rappresentano comunque un'emozione una fregatura rappresenta comunque un'emozione per cui per la parte emotiva va benissimo anche la fregatura Attilio non ci sto capendo niente no stavo dicendo andate per fare il riassunto brevissimo per Attilio e per gli altri se tu vuoi conquistare una donna o un uomo diciamo questo non importa devi evitare di scontrarti contro il meccanismo di difesa della donna cioè il meccanismo di difesa della donna qual è? che se penso una donna ad esempio che pensa che gli uomini sono tutti uguali che ci prova ad esempio una donna che pensa gli uomini sono tutti uguali ci provano perché vogliono fare sesso e basta e tu se tu interagisci con questa e non ci provi non importa che tu vuoi lo stesso degli altri ok? però tu non ci provi ci esci due o tre volte e non ci provi cavolo disinneschi il meccanismo di difesa anzi e se tu disinneschi il meccanismo di difesa vai anche a generare subito emotività perché è come se andassi a offendere il suo orgoglio di femmina perché è vero o non è vero malgascione varie che siete qua le malgascione varie che siete qua è vero o non è vero che se un uomo esce con voi e non ci prova da un certo punto di vista vi sentite come vi sentite come diciamo vi sentite come un po' offese diciamo come come femmine perché dice cavolo ti sento offesa come femmina avrò qualcosa che non va perché normalmente è il tuo cioè tu da un lato magari vorresti che non ci provasse perché è l'idea che tutti gli uomini ci provano perché cercano solo quello però se uno non ci eh sì lo reputo un gentiluomo ma ti flash abbastanza uno che non ci prova ti flash su un piano Sara un cugino no Martina eccola lì Martina Martina da Vienna Martina da Vienna che vuol dire Sara sarà un cugino no che vuol dire sarà vabbè eh quindi e questo ecco questo è quindi importante no quindi eh ma ci provano loro dipende a Tiglio dipende sempre dall'obiettivo che uno vuole ottenere ripeto dipende sempre dall'obiettivo che uno vuole ottenere eh esatto se uno non ci prova ci provi tu però qual è la cosa che esatto l'inverso seduce esatto perché tu cioè seduce anche perché ha due possibilità no fa due cose eh oppure ad esempio faccio un altro esempio eh faccio un altro esempio è interessante no perché ci sono molte donne che si mettono minigonnate poppute con tutto di fuori minigonnate e poi dicono ah guarda quello come guarda e poi fanno finta di lamentarsi diciamo che un uomo le guarda no ma in realtà è dire loro sono quelli che in diciamo in in gergo si chiamano shit test no si mette tutta minigonnate popput poi se uno la guarda dice eh che cavolo questo mi guarda qua là no è quasi come se fosse quasi come se fosse diciamo spazientita no del fatto che uno la guarda perché si è messa vabbè io ho messa guardata Rossella 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 è un'altra cosa i shit test sono test che fanno le donne per mettere al pro l'uomo allora più una se la tira cioè più una ecco più una è vestita in modo provocante per provocare appunto la chiave di seduzione è neanche guardarla cioè trattarla come se avessi a che fare con un appendino cioè proprio non prenderla in considerazione non prenderla in considerazione non guardarla assolutamente lei può fare tutto quello che vuole tu guarda in un'altra parte fai il distratto manco la degni di uno sguardo cioè la guardi negli occhi così tranquillamente ma non la guardi in nessuna parte non la degni neanche da uno sguardo non la degni neanche di uno sguardo e questo va subito a suscitare subito va a suscitare sei così per te sì però sei così per te relativamente però se uno non ti guarda neanche in faccia cioè non ti prende proprio in considerazione non ti guarda nemmeno non ti prende neanche come se avesse il burk come se fosse tua sorella diciamo così ed è una pacca sulla spalla anziché portarla diciamo le off come se fosse un tuo compagno di scuola no? dici ciao boom boom le do le pacche sulle spalle e dici dai andiamo a farci una birra da un kebabaro tratti proprio come se fosse un compagno di scuola e questo va subito a diciamo va subito a generare e diciamo a flashare va subito a flashare perché perché va a flashare si le dai un coppino dietro il quattro e dici ciao come va tutto bene e quindi questo è questo va subito a diciamo le donne sono cose tutte alcolizzate questo va subito a flashare diciamo va subito a flashare va subito a flashare per quale motivo perché praticamente non si rende conto cioè lei si sente offesa tra virgolette nella sua dignità di femmina praticamente le generi quella che si chiama crisi di identità tu le generi una crisi di identità le generi una crisi di identità per per il fatto che le generi una crisi di identità per il fatto che la praticamente non la prendi in considerazione non la prendi assolutamente in considerazione quindi questa persona resta praticamente resta bloccata da quel punto di vista lì e quindi vai a e quindi praticamente come ha detto Stefano Gatto è l'inverso che seduce non è il verso che seduce cioè se tu fai la stessa cosa e se una più una si veste appariscente diciamo così meno devi prenderla in considerazione meno devi prenderla in considerazione come se veramente fosse un tuo compagno di scuola del quale non del quale non la vedi non devi neanche vederla come donna diciamo così neanche vederla come donna beh sì usare il nome della persona è flesciante è sempre positivo usare il nome della persona perché è sempre un ancoraggio emozionale molto forte usare il nome della persona è sempre un ancoraggio emozionale un ancoraggio emozionale molto forte e quindi questo e questo è sempre sempre interessante insomma beh se invece si veste coperta se invece si veste coperta diciamo così quindi un po' bigotta diciamo un po' bigotta potresti dire il contrario potresti dire il contrario potresti provare a dire il contrario però se ad esempio mettiamo che si deve essere coperta con i pantaloni anche se hai i pantaloni larghi ti metti questi pantaloni attillati poi tutti ti guardano tu vai in giro per farti guardare la cazzi sul fatto che vai in giro a farsi guardare per dire perché in qualche modo anche se hai i pantaloni magari ce li hanno un po' attillati e tu li dici ti metti questi pantaloni attillati poi tutti ti vanno a guardare quindi vai a diciamo a colpirla lì dove lì dove probabilmente c'è il dente che duole perché dove c'è il dente che duole se tu vai a colpire i generi non ti inneschi col meccanismo di anzi lei dice però questo è uno ecco perché una che si veste coperta come dire teme che gli uomini la guardino e quindi se tu vai a dire guarda che poi ti guardano io non so tu vai in giro così mettiti qualcosa non so questi pantaloni attillati che hai insomma lei dice ma come attillati ho messo quelli di quattro taglie più grandi cioè no vabbè ma si immaginano qua mettiti un cappotto lungo copri del tutto metti in burca vai a esatto 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 devi semplicemente devi semplicemente devi semplicemente andare devi semplicemente andare sull'inverso devi semplicemente andare sull'inverso quindi beh questo è anche è anche detto una che se la tira per dire che si crede di essere una regina sono quelle che si credono di essere una regina devi trattarla da serva diciamo così trattarla da serva una che si crede una serva devi trattarla da regina sempre sull'inverso bisogna agire ma è sul verso perché l'inverso è frutto del meccanismo di difesa è il frutto del meccanismo di difesa e il meccanismo di difesa è quello che dobbiamo andare a scardinare è quello che dobbiamo andare a scardinare ecco quello è quello che andiamo a scardinare perché e non dobbiamo mai scontrarci col meccanismo di difesa non dobbiamo mai scontrarci col meccanismo di difesa beh verso un uomo è uguale verso un uomo è uguale verso un uomo è esattamente la stessa cosa verso un uomo è esattamente la stessa cosa devi andare ad agire un uomo ad esempio libertino che crede che tutte le donne siano lì disponibili per fare non devi assolutamente tu devi assolutamente presentarti come una come una integerrima che non lo fa proprio con nessuno e questo è importante uno che si presenta invece come un prete tu devi presentarti come trasgressiva è sempre l'inverso è sempre l'inverso perché un uomo libertino se si innamora non si innamora di una che ci sta si innamora di una che non ci sta perché se quello lì è libertino se quello lì è libertino praticamente avrà tante cose avrà tante come dire tante disponibilità non è la sessualità una più una meno non è disponibile se uno è libertino tu devi presentarti come quella che è successo tizzi jaguar devi presentarti al contrario mentre con uno che si presenta inibito devi presentarti come trasgressiva questo è ma questo potrebbe essere sì questa cosa qua potrebbe essere un po' esibizionista potrebbe provo ad andare a stimolare e dirvi vabbè adesso vado con un altro vedi un po' un attimino tu cosa ti interessa queste sono forme di wireismo questo per Rossella Rossella sono forme di wireismo bene detto questo vi ricordo gli appuntamenti vi ricordo gli appuntamenti il primo marzo Torino primo marzo oramai è domani praticamente quindi venite domani a Torino e la lezione sarà sull'autostima fai volare l'autostima e seduci chi vuoi siamo arrivati al termine ma stasera tornerò intorno alle 22 22.30 stasera torno torno alle 22 22.30 ritorno quindi e ieri c'era anche la malgasciona sì adesso sì perché vado ho da fare alcune commissione ho da fare un po' di di commissione un po' di spesa e poi torno poi invece Milano 3 marzo dal 9.30 al 19 Milano 3 marzo dal 9.30 al 19 sì rimandami il messaggio però perché poi mi dimentico Rossella rimandami un messaggio Rossella stasera così perché se no mi dimentico magari mi viene a mettere e poi abbiamo Roma invece il 5 maggio dalle 9.30 alle 19 Roma 5 maggio dalle 30 alle 19 autostima anche a Roma bene sì possiamo parlare anche di autostima sì dai autostima anche a Roma ce lo mettiamo ce lo mettiamo e poi il riferimento è 333 15 11 703 333 15 11 703 benissimo ok detto questo ci vediamo più tardi un giro di carampana un suono di carampana ciao a tutti ci vediamo più tardi ci vediamo più tardi a dopo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti